La storia riguardante la separazione fra anime e la sabri sembrerebbe essere finalmente giunta a termine Infatti questo sarà l'ultimo video che si farà su questa vicenda Visto che con questo, eccetto per interventi dei diretti interessati, non ce ne sarà motivo di farne altri Infatti la sabri, che ricordiamo essere un personaggio pubblico, è stata fotografata in un luogo pubblico Un po' come nelle riviste di gossip vere, da una persona che mi ha mandato una foto in particolare Questa foto è stata fatta adesso, durante la sua vacanza ai Caraibi insieme a Pika Che come vi disse anche nel video che poi andai a rimuovere, era una vacanza appunto non di lavoro ma personale E indovina, indovina, nella foto ci sono lei e il Pika che si baciano Quindi credo che non ci siano più dubbi su questa cosa, la sabri e Pika sono ufficialmente fidanzati Ricordo bene che questo non implica che la sabri abbia tradito anima o robe simili Perché molti sul web stanno facendo girare questa voce ma non c'è assolutamente nulla di certo che sia successo una cosa simile E finché i diretti interessati, ovvero la sabri e anima, non si pronunceranno personalmente per parlare di un presunto tradimento o robe simili Non dite robe in giro a caso raga Però una cosa è certa, le stories di anima precedenti su questa storia non erano altro che frecciatine per la sabri Ma ora voglio sentire la vostra opinione su tutto quanto qui sotto nei commenti E se vi aspettavate una cosa del genere anche voi Noi ci vediamo in un prossimo video, Ligna allo studio